La Serie A maschile torna dopo le gare della Nazionale in Serie A femminile. La regular season è entrata nel vivo, in entrambi i casi squadra in campo per quella che sarà la settima giornata in questo weekend. Nelle girone A al maschile occhi puntati sul Palavis dove la capolista Bressano riceve la visita del Bressanone, quarta forza del girone stesso raro per altri due incontri rilevanti. Le sfide che coinvolgono Bolzano e Trieste appaiate al secondo posto e avversarie di Eppan e Malo. Lo scontro al vertice fra Carpi e Romagna è uno dei big match di giornata per quanto riguarda il girone B. Le due compagini sono appaiate a 15 punti. Nel girone C invece la sfida di cartello si gioca alla palestra Zizi dove i campioni d'Italia della Junior Fasano ricevono il Team Network Calbatro, squadra distanti 6 punti al momento. In Serie A femminile la vittura del Conversano contro il Flavioni nell'anticipo del 9 novembre scorso ha aperto la settima giornata. Le campionesse d'Italia torneranno in campo sabato in EHFK. Per tutte le altre sarà campionato con in testa il match del Palapalumbo tra Salerno e Bressanone dove le campane cercheranno di mantenere la loro imbattibilità al pari del Conversano. Al Palaposchetto altro match attesissimo è il derby cittadino che oppone Stenze e Ariosto Ferrara. Nel frattempo la Casa Grande Padana cerca la quarta vittoria stagionale sul campo del Dossobuono. La Globopalas Biopta Terramo cerca il balzo nella prima metà della classifica ospitando il nuoro al Palas San Nicolò al pari del Cassano Magnago che invece davanti al pubblico di casa fa i conti con i desideri di riscatto dell'Ali Mestrino. Gara tra neopromosse infine nel match in calendario alle ore 21 che oppone Messana e Brescia.